Priva di Lici e con Vasilovinovic a mezzo servizio febbricitante, Lame Scuola Baschettarezzo alza bandiera bianca contro il CLS Quarrata che dimostra recuperati tutti i giocatori dagli infortuni di essere una squadra di prima fascia in questo campionato. Le due squadre partono molto determinate da entrambe le parti, poi la svolta della gara con Quarrata che prende il comando delle operazioni. Nel secondo quarto i ospiti costruiscono il parziale vincente, Lame non riesce ad agire così Quarrata gestisce il vantaggio senza troppe difficoltà arrivando a toccare anche 22 lunghezze di vantaggio. Per due volte Lame sbaglia il tiro del meno 6 che avrebbe riaperto definitivamente la gara. Dall'altra parte Quarrata gestisce senza troppi patemi gli ultimi possessi portandosi a casa una vittoria meritata ed importante per la propria classifica con un punteggio di 83 a 73. Per l'Arezzo un passo indietro soprattutto a livello difensivo rispetto alle ultime prestazioni. Per domenica prossima ci sarà la trasferta di Siena-Sponda-Costone, un avversario molto diverso da quello affrontato nel girone d'andata. Palla 2 alle 18 al Pala Orlandi. C'è da capire che con queste squadre qua che sono più forti di noi non ci possiamo permettere di regalare un quarto intero. Nel secondo quarto abbiamo subito 31 punti. Lo dico dall'inizio dell'anno, purtroppo ancora troppo spesso non ci riusciamo. Noi siamo una squadra che deve vivere di difesa, di attacco. Se concedi 31 punti noi non ne abbiamo 31 punti in un quarto nelle mani. Diventa veramente dura. Poi per fortuna c'è stata una reazione. È andata male perché comunque c'erano 20 punti da recuperare, quindi non sono pochi. Testa alla prossima ma cercando di capire che dobbiamo difendere. Se pensiamo di vincere le partite a livello offensivo con le prime 6-7 squadre del campionato non possiamo vincere.